Final Fantasy XVI si è dimostrato un gioco dalla doppia anima. Un'opera sostenuta da una grande ispirazione artistica e un cuore che pulsa all'unisono con il racconto, ma anche incapace di superare una formula i cui problemi vanno ben oltre il sistema di combattimento. È il migliore episodio della serie da tanto tempo, ma è ancora distante dall'ideale di assoluta eccellenza che dovrebbe accompagnare l'eredità del nome Final Fantasy. Ma com'è possibile che due nature così diverse riescano a convivere nello stesso progetto? Ve lo raccontiamo nel dettaglio a partire da uno degli elementi più riusciti di questo sedicesimo capitolo, l'ambientazione. Il punto zero della rivoluzione inseguita dalla squadra di Naoki Yoshida risiede proprio nella costruzione del mondo di Valistea. Mai nell'intera storia della saga era emerso un universo tanto carico di dettagli e di coerenza storica. I continenti di Ciclonia e Cineria hanno infatti alle spalle secoli di guerre, di dinastie, di usi e costumi che rifiniscono un affresco narrativo enorme. Tanto che tramite la funzionalità dell'Active Time Lore è possibile sospendere l'azione in qualsiasi momento per ottenere informazioni e piccoli aneddoti dedicati agli elementi della sequenza che si sta vivendo. Ma esistono persino personaggi votati esclusivamente alla raccolta e all'analisi della lore, volenterosi di spiegare nel dettaglio la mappa geopolitica dell'area. L'ispirazione di partenza proviene chiaramente dalle cronache del ghiaccio e del fuoco che tutti noi conosciamo ormai come il trono di spade, la cui essenza cruda e oscura è stata tradotta secondo il linguaggio di Final Fantasy. La guerra, la discriminazione, l'immigrazione e la questione ambientale vengono così declinate in un panorama violento, fisicamente ma anche e soprattutto psicologicamente. Basti pensare all'esistenza dei portatori, ovvero le persone che possono utilizzare la magia senza l'ausilio dei cristalli, abomini equiparati a meri strumenti che si possono uccidere impunemente, utilizzare come animali domestici o torturare per il puro gusto di farlo. Dal calderone del trono di spade è stata pescata anche l'incombente ombra della morte, un cupo sottofondo che accompagna ciascun battito dell'avventura. I personaggi possono infatti ammalarsi, essere pugnalati o trovarsi menomati in qualsiasi momento, spogliendo così il cast della plot armor tipica del genere. Lo spettro della morte non risparmia nessuno e porta anche i personaggi positivi a inseguire la vendetta e commettere atrocità, fissando i contorni della più sanguinosa istanza di Final Fantasy da quando il marchio è presente sul mercato. Ma il vero colpo da maestro, tuttavia, risiede nel modo in cui questo filone Dark Fantasy è stato perfettamente incastrato nell'immaginario della saga, ritagliando uno spazio su misura per gli icon, per i cristalli, per la magia e persino per i Giacobbo. Se l'ambientazione è il cuore pulsante di Final Fantasy XVI, le storie e i personaggi ne rappresentano senza dubbio l'anima. Clive Rosefield è un protagonista tridimensionale, un uomo che paga i propri errori costretto a crescere e a scendere a compromessi, combattendo in prima linea per difendere ciò in cui imparerà lentamente a credere. Ma la cosa più interessante è che si muove nei confini di un mondo vivo, nel quale le pagine della storia continuano a scorrere anche quando lui non è presente. L'assenza del classico party di personaggi giocabili non si percepisce, perché le figure che abitano attorno a Clive possono prendere iniziative in totale autonomia, esattamente come è accaduto al gruppo di comprimari introdotti in Final Fantasy XIV, l'opera che ha permesso agli uscita di assumere il comando di questo progetto. Il racconto viaggia così lungo due binari paralleli. La vicenda prettamente umana, retta dall'avidità, dal desiderio e dalla lotta per la sopravvivenza, è il classico sentiero occulto. È una storia di vendetta, di maturazione e di redenzione, che cresce di pari passo con i suoi protagonisti fino a esplodere in un grande finale pirotecnico. L'integrità della narrazione si incrina solamente quando la seconda natura inizia a prevalere sulla prima, ovvero quando l'elemento divino interviene di prepotenza a risolvere un intreccio che già funzionava alla perfezione nella sua dimensione politica e concreta. E ciò accade a causa della presenza di un avversario piuttosto debole, perlomeno se paragonato agli altri che si parano lungo il cammino di Clive. Manca insomma proprio quella caratterizzazione profonda del cattivo che per la Creative Business Unit 3 è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica. A margine alcuni personaggi secondari, anche molto ben scritti, non hanno potuto contare sulla cura estetica che avrebbero meritato, presentandosi come anonimi NPC scaturiti da un freddo editor del personaggio, anziché delle ispirate matite di un character artist. La struttura di Final Fantasy XVI è molto particolare. Figlia dell'esperienza decennale maturata dal team di sviluppo, sceglie di ancorarsi all'architettura che solitamente sorregge le grandi espansioni del quattordicesimo capitolo online. L'opera alterna così sequenze molto lineari dall'elevato tasso di adrenalina a lunghe sezioni dal ritmo più compassato, piccole pause durante le quali viene introdotta una nuova regione assieme ai suoi abitanti, aprendo finestre volte a smorzare il ritmo dell'azione, per consentire al giocatore di dedicarsi anche alle attività secondarie. E tale architettura che si inserisce a meraviglia negli ingranaggi di un MMORPG risulta molto più difficile da digerire in un'esperienza di questo genere, perché la molle di attività filler si traduce nella continua ripetizione di capitoli riempitivi sempre ancorati alla medesima natura. Si giunge in una nuova area, si incontra il contatto locale, si prende parte a una catena di missioni per poi approdare lentamente alla successiva grande sequenza d'azione. Il punto di saturazione arriva verso la metà dell'avventura dopo circa 35 ore, momento in cui si inciampa in missioni obbligatorie che portano il giocatore in aree già esplorate al fine di reperire ingredienti, raccogliere fiori e svolgere una serie di compiti tutt'altro che esaltanti anche in momenti clou dell'intreccio. Inutile dire che a risentirne più di ogni altra cosa è il ritmo, la cui salvezza risiede esclusivamente nella voglia di scoprire cosa accadrà sul fronte della trama. Questa filosofia di design si estende anche alle attività collaterali e soprattutto all'esplorazione, due segmenti che finiscono per uscirne con le ossa root. Le mappe aperte hanno poco o nulla da offrire. Non capita mai di imbattersi in un incontro interessante, in una struttura nella quale è possibile entrare o in un minigioco, e in linea generale è impossibile scoprire qualcosa, fosse anche solo un'interazione e una linea di dialogo unica. Le regioni si limitano infatti ad esistere nel silenzio, come fossero dei bellissimi quadri da osservare. I problemi nel ritmo sono amplificati da una lunga serie di piccole sbavature, che prese singolarmente quasi non si notano, ma che tutte insieme finiscono per incidere sulla fluidità dell'esperienza. Lo scatto, ad esempio, si attiva solo in automatico e solo nelle aree aperte, trasformando un gesto sulla carta immediato, come la navigazione del rifugio, in un lento e ripetitivo andirivieni tra un personaggio e l'altro. Allo stesso modo, l'azione è costantemente smorzata dalla comparsa di finestre che mettono inutilmente il gioco in pausa per segnalare la fine del combattimento, la sconfitta di un personaggio, l'inizio di un capitolo o anche solo il completamento di una banale consegna. Quella confezionata da Ryota Suzuki per il sistema di combattimento di Final Fantasy XVI è una versione light della formula da puro stylish action integrata in Devil May Cry 5. Più leggera perché la spettacolarità dell'azione è sempre privilegiata rispetto alla complessità tecnica e soprattutto al tasso di sfida. A dir poco perfetto per i neofiti del genere risulta invece meno interessante per il pubblico esperto, destinato a trovare gli stimoli maggiori solo durante le ultime fasi di gioco e oltre il finale. Certo, si possono ottimizzare le battaglie tirando fuori dal cilindro combinazioni interessanti, ma nella maggior parte dei casi è più che sufficiente utilizzare una dietro l'altra le abilità disponibili per emergere vittoriosi da qualunque scontro. Ma il fulcro dell'intero sistema risiede nelle abilità degli Icon, attacchi speciali legati alle caratteristiche delle storiche evocazioni. Ci sono scatti infuocati capaci di penetrare le orde, parate attive che aprono varchi per devastanti contrattacchi, magie che punzecchiano gli avversari nel tempo o ancora turbini difendenti che invece di puntare ai danni mirano a spezzare la guardia del nemico. Ha infatti di importanza fondamentale la meccanica di Stagger, che porta i mostri più coriacei a crollare al suolo una volta esaurita la barra difensiva. All'interno delle arene ci si trova a eseguire una sorta di rotazione nello stile tipico degli MMORPG, lanciando in sequenza tutte le abilità disponibili e tenendo sott'occhio i rispettivi tempi di ricarica, sfruttando un sistema difendente ridotto all'osso per colmare gli spazi fra le grandi esplosioni. Ma se gli attacchi degli Icon sono spettacolari, soddisfacenti da lanciare e dotati di un eccezionale feedback nei colpi, il compito di alzare l'asticella tecnica è invece riservato alla schivata precisa, la cui capacità di cancellare le animazioni è una splendida aggiunta. Anziché puntare su un intricato sistema di mosse, l'opera scommette poi sulla varietà delle combinazioni di abilità, abbracciando un approccio che non è né migliore né peggiore, ma semplicemente diverso rispetto agli standard del genere. Il ventaglio di opzioni si amplia poi nel finale, quando finalmente si ottiene accesso a tutti gli Icon e gli avversari scelgono di adottare strategie difensive più complesse, sfruttando attacchi che richiamano la struttura dei ride di Final Fantasy XIV. In seguito a un viaggio dalla progressione molto lenta, il sistema arriva a dare il meglio di sé nelle attività del post gioco, come le sfide di maestria degli Icon in cui il fallimento diventa un'eventualità concreta, la modalità arcade che consente di rigiocare le missioni per ottenere valutazioni, e soprattutto la modalità Final Fantasy. In questa speciale variante del nuovo gioco più, con l'arsenale completamente sbloccato, i nemici sono sostituiti da varianti più potenti e adoperano strategie inedite, per esempio trasformando le creature volanti in fastidiose unità mediche o dotando intere guarnigioni di incantesimi difensivi. Col senno di poi, l'implementazione di un livello di difficoltà più elevato sin dall'inizio avrebbe senza dubbio potenziato l'esperienza dei giocatori più navigati, destinati a vivere 80 ore durante le quali è quasi impossibile conoscere la sconfitta. La seconda faccia della medaglia è invece incarnata dagli scontri fra Icon, battaglie fra divinità visivamente splendide interamente votate alla gloria nella distruzione. Ciò significa che la componente del gameplay si risolve in poche sezioni di combattimento tecnico, che troppo spesso cedono il centro della scena a lunghissimi filmati interattivi inondati di quick time event. Va da sé che queste battaglie coincidono con gli snodi essenziali della trama, il loro scopo è quello di mettere per lo più in movimento tutta l'epica della saga, ma nella maggior parte dei casi si tratta di fasi molto diluite nelle quali il giocato effettivo si riduce giusto alla pressione di un paio di pulsanti. È d'obbligo, infine, una menzione alla componente RPG che si presenta in forma estremamente superficiale. Il nuovo sistema non riesce infatti a ritagliare uno spazio per resistenze e debolezze elementali, riducendo così al minimo indispensabile l'influenza del giocatore sulle statistiche del protagonista. Insomma, la principale scelta risiede nella selezione delle abilità degli Icon, e chi deciderà di sperimentare in tale direzione riuscirà a svelare inaspettati scampoli di profondità che rimarranno nascosti agli sguardi meno attenti. La Creative Business Unit 3 ha concentrato tutti gli sforzi sul potenziamento della fantasia alla base della serie, e i succitati scontri fra Icon sono un esempio perfetto di tale filosofia. La componente visiva è fondamentale e l'azione cinematografica svolge un ruolo da assoluta protagonista. Della colonna sonora non c'è nemmeno bisogno di parlare, ma Sayoshi Soken ha abbracciato il ruolo di erede del leggendario Nobuo Uematsu, confezionando una serie di brani capaci di elevare alla potenza qualsiasi situazione. E allo stesso modo si può festeggiare per un fronte artistico che ha reso onore a rovine sotterranee mosse da tecnologie scomparse, a fortezze impenetrabili ai piedi di immensi cristalli e ad Icon che sembrano usciti dai sogni di chi 25 anni fa correva con la fantasia di fronte ai poligoni delle antiche evocazioni. Un livello di cura che si ritrova tale e quale anche nella caratterizzazione e nelle animazioni dei mostri. Questo lavoro di Cesello ritorna anche nel sistema di combattimento, perché non è mai esistito un videogioco action in cui persino le abilità potessero contare su una simile attenzione al dettaglio grafico. Nonostante la qualità estetica, le battaglie in modalità prestazioni restituiscono un'esperienza eccellente, specialmente se si tengono in considerazione la mole di effetti e il numero di nemici che si alternano nelle arene. E il discorso cambia solo quando entrano in scena gli Icon, fasi di gioco decisamente più pesanti nelle quali in rare occasioni capita di calare per qualche secondo anche al di sotto dei 30 fps. In linea generale comunque la modalità prestazioni è quella che garantisce l'esperienza migliore, ma mette comunque in scena una frequenza dei fotogrammi variabile destinata molto spesso ad abbassarsi. E paradossalmente questo succede proprio nelle sezioni meno concitate, ad esempio durante l'esplorazione delle mappe aperte. Di contro, privilegiando la qualità accade di assistere anche a occhio nudo alla comparsa di nuovi dettagli, specialmente tra le foglie della vegetazione, ma è davvero difficile voler rinunciare alla fluidità garantita dall'alternativa che è a dir poco essenziale per un titolo del genere. L'ultima annotazione riguarda invece il doppiaggio, di altissimo livello tanto nella versione italiana quanto in quella inglese, entrambe affidate a grandi voci. Anche l'adattamento ha perfettamente inquadrato la direzione del progetto, fatte salve alcune strambe licenze come la terminologia utilizzata per le magie. Ma si tratta solo dell'ultimo tassello in un grande mosaico di valori produttivi che da anni mancavano dalle sponde del brand, finalmente tornato a sfoggiare la qualità tecnica e l'attenzione al comparto grafico che negli anni 90 hanno rappresentato un marchio di fabbrica della produzione. Final Fantasy XVI è fra i migliori episodi della serie incontrati in circa vent'anni, nonostante l'elevata mole di imperfezioni che sporcano le sue caratteristiche di videogioco. La Creative Business Unit 3 ha investito tutte le energie degli ultimi otto anni nella costruzione di un incredibile universo narrativo, rifinendo minuziosamente un cast di personaggi straordinari studiando un racconto che si dimostrasse all'altezza dei grandi classici, ma soprattutto lavorando di fino sull'immaginario e sulla potenza estetica della saga. Nell'inseguimento di questi obiettivi tuttavia si è persa per strada l'esplorazione e l'offerta collaterale che hanno sempre caratterizzato la serie, e ha dovuto ridurre al minimo l'elemento GDR prima di inciampare in un ritmo che cozza con le necessità di una grande avventura cinematografica. Tuttavia gli ideali di Naoki Yoshida rappresentano ciò che è mancato alla saga negli ultimi decenni e la sua visione merita di essere premiata perché è sinonimo della direzione giusta. Ma per compiere il balzo di qualità definitivo non basta un grande Final Fantasy, serve anche un eccellente videogioco. E voi cosa ne pensate di quanto visto in questo capitolo? Diteci la vostra nei commenti e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace per farcelo sapere. Qui accanto trovate ora alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima! Cerchiamo di stargli alla larga.